3 febbraio 2024, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, la strada per la santità è piena di ostacoli, ma non tiratevi indietro. Mio figlio Gesù è il vostro grande amico e sarà sempre con voi. Confidate in Lui che vede ciò che è nascosto e vi conosce per nome. Vi chiedo di essere uomini e donne di preghiera. L'umanità è malata e ha bisogno di essere guarita. Pentitevi e cercate la misericordia del mio Gesù nel sacramento della confessione. Voi siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Siate docili alla mia chiamata e sarete grandi nella fede. Vivete nel tempo peggiore del tempo del diluvio ed è giunto il momento del vostro ritorno al Signore. Ancora avrete lunghi anni di dure prove, ma coloro che rimarranno fedeli saranno salvati. Camminate per un futuro di grande confusione nella casa di Dio. False dottrine si diffonderanno e contamineranno molti dei miei poveri figli. Non vi dimenticate. Il pane del nemico è solo pane, corpo, sangue, anima e divinità solamente nell'Eucaristia. La verità del mio Gesù è nella Chiesa Cattolica. Questa è una verità non negoziabile. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.